Prime multe grazie alle telecamere, un volantino per chiedere maggiore collaborazione ai comaschi e nuovi cestini per la differenziata nei parchi dei quartieri periferici. Sono le principali novità in materia di rifiuti illustrate oggi dall'assessore all'ambiente del comune di Como, Bruno Magatti. Per quanto riguarda le sanzioni, a chi non rispetta le regole, negli ultimi due mesi e mezzo, grazie alle telecamere mobili posizionate dagli agenti della polizia locale nei luoghi dove la gestione dell'immondizia è fuori controllo, sono scattati i primi quattro verbali da 100 euro l'uno. In totale, dall'inizio dell'anno, il comando di Viale Innocenzo ha gestito 150 segnalazioni in materia di rifiuti ed elevato 18 multe. Andremo avanti in maniera insistita, soprattutto nei luoghi in cui c'è questa cattiva abitudine, poi anche in alcuni comportamenti che vediamo ripetersi e che è difficile far rientrare, riuscendo a identificare chi sono coloro che si comportano in questo modo, sarà forse possibile una sanzione. La raccolta differenziata a fine 2015 a Como ha toccato quota 65,58%, un dato incoraggiante ma che si può ulteriormente migliorare, consentendo anche di abbattere i costi. Verrà distribuito a breve un volantino per sensibilizzare i cittadini. L'assessore, in particolare, si rivolge a chi vive e lavora in centro storico per limitare al minimo indispensabile l'esposizione di sacchi e bidoni in strada, che soprattutto in estate non rappresentano un bel biglietto da visita in chiave turistica. La raccolta, è noto, avviene il martedì e il venerdì sera dalle 20, ma i rifiuti possono essere esposti già a partire dalle 18. Quello che noi abbiamo immaginato è di iniziare la raccolta alle 8, come è previsto dal regolamento, dei sacchi, perché i sacchi sono l'elemento di disturbo e quindi in uno spazio di tempo più breve possibile l'impresa ci garantirà il fatto di portare via tutti i sacchi. Chiediamo ovviamente di non esporre le 3 del pomeriggio, già cosa che non si può fare, ma di esporre il più possibile dopo le 18 e prima delle 20. Una sonora stregliata questa mattina è stata rivolta alle scuole della città, ancora indietro in materia di differenziata, e al mercato coperto che in un anno ha visto triplicare la mole di rifiuti raccolti, oltretutto in base a quanto rilevato poco o mal separati. Capiamo che non è soltanto un problema di operatori mercatali, ma è un problema anche di uso improprio di questi spazi, anche questo sarà monitorato prossimamente con l'utilizzo della telecamera per riportarlo ovviamente al regime. Infine una buona notizia per i parchi comaschi, nei quartieri periferici arriveranno presto i nuovi contenitori per la differenziata, per separare i rifiuti anche quando si è fuori casa.